Sicuramente il team di Action mi ha dato un'opportunità fantastica di guidare una macchina vera da rally. Questa è una manifestazione soprattutto per divertirsi e noi siamo qua a divertirsi, abbiamo fatto già un test con la macchina tutto sommato positivo, poi vediamo un po' le condizioni che sono sempre molto strane, però speriamo di fare meno danni possibili.